questo video blog del 31 gennaio 2019 quasi inizi 2020 ho sbagliato 31 dicembre e siamo qui riuniti in questa tavola per dirvi che apriremo un nuovo canale su youtube il primo video avverrà lunedì 8 gennaio chiamato Raffi e Celeco in cui prenderemo giorni di pittura blog arte del legno e tante altre cose divertentissime da pubblicare insieme a voi spero che siate tanti gli iscritti che mi aiutate molto perché stiamo raccogliendo dei fondi per dei cani abbandonati perché come sapete a Messina il caso di Don Blasco è davvero devastante canili veramente pieni e cani che vengono deportati ogni giorno purtroppo perché la gente non se li può permettere quindi spero che mi aiuterete in questo nuovo anno con le vostre iscrizioni a ogni iscrizione varrà un centesimo che poi arriva a 8 di fondi andrà destinata all'associazione EMPA per aiutare appunto gli animali aiutatemi tantissimo spero che ci siano molte visualizzazioni e noi ci vediamo e ci vediamo e a presto un bacio da Raffi e Celeco, arte del legno e pittura e dei nostri amici del quattro zale e qui è tutto da Raffaele Costa